Questa è la terza parte del set base, 3-6, altre 9 bustine, tutte di Blastoise. E partiamo quella qui. Prima abbiamo trovato Shard, non dovevo trovare Blastoise. Impegno. Questa è molto difficile. L'ho salvato. Questa qua giusta? Cerchiamo di iniziare bene. Energia. Energia. E' questa la rara. Biddyr. Raticate. Recupero l'energia. Polivir. Gasly. Guider. Pikachu. Nidra. E' picci. Mmm. Si vuole una verona. Serve Blastoise. Quasi sta accumulando le bustine bordo. Energia. 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 Nidorino. Plus potenza. Tattor. Caterpie. Si nella luce siamo. Machop. Onyx. Starmi. Metapod. E' Mewtwo. Bellissimo. Me l'avevo pure dimenticata che c'era in questo set. Un'altra. Un'altra di Blastoise. Un'altra di Blastoise. Un'altra di Blastoise. Un'altra di Blastoise. Energia. Energia. Centro Pokémon. Magmar. Pikachu. Polywag. Basal. Charmander. Pidgey. E' la rara è. Superlumat. Sì. Questa è stata distrutta violentamente. Esatto. Porrigo. Da quanto tempo non lo vedevo? Silo. Pikachu. Tangela. Machop. Widdle. Un'altra. Polywag. Mh. Innanzi. Innanzi. Energia. Energia. E' un'altra. Centro. Sceglie da un sacco di holo ma... Andiamo con quest'altra. Sembra di Blastoise. Un'altra. 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 energia energia e la rara è un altro charizard E sono due Vabbè Due charizard E due charizard C'è il vero Ecco 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 Non mi ricordo come fa Noi andiamo un po' a Casazio Radigate Growlit Centro Pokémon Abra Doduo Vulpix Nidara Ed è un addestramento Gastly Energia E il professor Rocco L'impostore Che è la rara Le ultime tre Un effetto Questa E andiamo con... Questa Questa pratica manutenzione magica fazione magica draughty niverat pg machop energia energia e la rara è blastoise quella che volevo io ed è uscita due shardar blastoise e due zap la blast meglio di un box questo bustino st 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 st